bella per voi raga la serie senza tempo marchi diego dal ritorno dallo stadio c'eru de parecchie erbucio e prove lazio stumgas 2 a 2 un po all'atrata se può di perché a fine espulsione dell'azio che era proprio così convincente è però abbiamo combattuto fino alla fine ma sì intanto salutiamo tutti quelli che ci hanno riconosciuto un saluto a tutti gli amici tutti quelli che mi conoscono siamo stati con stramarci con marco adler di monaco e ovviamente con lele e vittorione campanile fatto per dio con vittorio e famiglia e quindi è sempre un piacere peccato perché la lazio è partita bene il primo tempo secondo me veramente ampiamente meritato il vantaggio poi sul calcio di rigore di ciro immobile e poi però appunto avviene il fattaccio mezzo smaracciata de lazari che ho visto velocemente insomma un video che ci hanno mandato sembra e ricorrense russo non c'è stato arrivano e per niente la doppia munizione non esiste proprio anche perché la partita era già incanalata no ma in canale era già comunque cattiva e l'ammunizione per la manata in faccia quando stava per terra comunque non è che come detto te era come l'espulsione dei ciro immobili quando è stata la manata a vital da lazio winter inter lazio era la stessa cosa non ci doveva sta la doppia munizione per lazari però beh questa cosa io non so se è stata l'ammunizione per quella smarciata o per tutto il subbullio che c'è stato dopo perché ha munito tutte e due comunque fatto che quell'altro del sul ma grazia non era munito quindi beh l'arbitro ci ha capito un cazzo secondo me ci ha capito un cazzo infatti per da rigore pure che vabbè poi la curva sembrava netto un parolone nel senso però sembrava sembrava appunto netto e sì sembra ci ha capito niente e finiamo sull'1 a 0 il primo tempo loro però iniziano sono tempo belli belli incazzati e mettono in campo la la voglia l'intensità che abbiamo visto anche all'andata e riescono a ci fare il pareggio forse l'unica cosa che c'ho da dire a stare è che un po forse se tomo chiude cioè nel senso da mostrare un po più attento in difesa e cerca da prendere meno gol invece i due colla che arrivano dopo di loro e so proprio su delle ripartenze che comunque dei tiri da fuori perché non è che dentro all'area sono entrati tantissime volte no praticamente no il fatto è che secondo me la razza l'ha approcciata bene siamo non siamo d'accordo con adler di monaco appunto perché lui diceva a secondo tempo mo mollato secondo me no nel senso tu hai giocato bene poi loro con la loro intensità e corsa ci hanno messo in difficoltà superiore a numerica perché appunti cosa sono avvenuti da continui da fuori perché magari quando sei in meno non riesce andare a chiudere in tempo su quello che tira quindi insomma loro non riusciamo andare sul 2 a 1 o il grande pedro nonostante soffriamo e dopo poco dopo loro riescono a pareggiare poco dopo è l'ottantatresimo la nebbia la nebbia via quindi niente ci ha detto male entra felipe anderson che i primi 10 minuti era da da menaie e entra milinkovic che invece si carica la squadra sulle spalle entra anche cancellieri che abbiamo capito che non può fare punta anche se è una situazione particolare questa per decidere però sinceramente sì non lo sappiamo che lui non può fare la punta io quello che dico che deve entrare quando il risultato è già certo capito se deve lo metti a fare la prima punta quando deve quando dobbiamo recuperare il risultato ovviamente non è il suo non è il suo ruolo ma a parte quello grande pedro grande mitincovic grande patrick grande patrick a partitone totale ma in realtà grandi tutti sono una grande lazio oggi una bella lazio lo sum grazie ragazzi è una bella squadra una squadra rognosa che sa correre tecnicamente è limitata ma ci ha messo in difficoltà e dovevamo aspettarci niente purtroppo se troviamo tutti quanti a cinque punti un'altra volta rimandata tutti quanti cinque punti tutti pari nel girone la partita importante sarà con terfei nord fuori casa prima del derby prima però ti vanno a vincere sempre in casa contro il mitchelland il 27 ragazzi venite venite tutti per favore però doveva mettese bene stavolta e abbiamo sofferto però io dico che una reazione della lazio l'ho vista non ho visto la lazio remissiva delle ultime due partite visto una lazio combattuta che effettivamente c'è avuto difficoltà perché in inferiorità numerica e con una squadra che corre ma al primo tempo surclassati loro dal punto di vista tecnico e anche fisico fossero rimasti in 11 io non ho dubbi che questa partita questa vittoria la portavamo a casa si sicuramente non finiva 2 a 2 questa partita però è andata così è andata così ce lo teniamo perché comunque grande cornice del pubblico grande serata e ovviamente la curva non ha mai smesso di cantare noi e noi con loro quindi niente ringraziamo tutti per la bella serata scrivete mettete mi piace uscirà domani il blog qualcosa qualcosa mori preso cose simpatico una magna e navar bagno soprattutto perché è importante andare al bagno mettete mi piace scrivetevi e forza lazio rica non c'è niente da dire dai ciao